Il questore Enrico De Simone, dopo aver raccolto tutte le testimonianze degli operatori, senz'altro emetterà il DASPO urbano per i protagonisti di una rissa ieri nella frazione di Paganica, o almeno questo sembra essere l'ipotesi più probabile. Un 15enne è stato preso a calcio e pugna alla fermata del bus, ma tutto questo avviene a meno di 24 ore dall'approvazione in consiglio delle modifiche a regolamento di Polizia Municipale, argomento del quale Reteotto si è più volte occupata, che in pratica amplia le zone nelle quali si può applicare il DASPO, comprese le frazioni con le aree sensibili che vi rientrano. La vittima dell'aggressione, avvenuta tra la piazza e la villa comunale di Paganica, è un 15enne residente nella frazione aquilana, che sceso dall'auto è stato trascinato con forza via e malmenato da sette coetanei, due italiani e cinque macedoni. La baby gang aveva i suoi compiti precisi, alcuni tenevano fermo il ragazzo, gli altri lo picchiavano in maniera selvaggia. Secondo i carabinieri intervenuti non è stata una ragazzata, perché è venuto fuori nel corso della colluttazione anche un collo di bottiglia, che fortunatamente non è stato usato per infierire. Per il ragazzo vittima dell'aggressione le conseguenze non sono state serie, per fortuna, e se l'è cavata con un occhio nero e qualche scoriazione. Ma i genitori giustamente hanno sporto denuncio alla locale stazione dei carabinieri, che si è messa subito sulle tracce dei baby aggressori. In caserma è stato convocato subito il presuntatore del pestaggio, già ascoltato come si farà con gli altri sei, le sue dichiarazioni sono chiaramente al vaglio delle forze dell'ordine. Che ci sia stato un aumento delle violenze consumate da minori, lo dicono i dati, sono abbastanza chiari. La situazione preoccupa non poco le famiglie di adolescenti per il ripetersi di episodi di violenza di questo tipo. La questione del DASPO, secondo però il Comune, potrebbe essere un deterrente per contrastare questo tipo di fenomeno.